Gio mi ha scoperto, allora a questo punto svelo chi son veramente, svelo la mia vera identità e vi faccio vedere la mia vera faccia, ormai è finita, 3, 2, 1, ecco chi sono! La rala, parabà, parabà, ci facciamo la doccia con quest'acqua calda, figaro qua, figaro là, son barbiere di qualità. Ah, ragazzi siete qui, aiuto, ma come vi permettete invadere la mia privacy, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video nel mondo di bella faccia e di suo figlio Babyfaccia. Se sei nuovo o nuova iscriviti adesso al canale, entro 3 secondi, 3, 2, 1, tempo scaduto, iscriviti ora e commenta scrivendo, giochiamo e giocherai a Minecraft con me e Babyfaccia. Quindi commenta scrivendo, giochiamo, aspettate che sta iniziando il telegiornale ragazzi, aspettate perché non lo voglio perdere. Non giudiamo le ultime news, è stata scoperta l'identità di un certo Babyfaccia, a quanto pare ha falsificato la sua faccia e il suo nome. Sembra sia pelato e sembra non si chiami Babyfaccia, perché avrebbe fatto tutto questo? La polizia sta indagando, vi terremo aggiornati. Cosa vuol dire? Mi sto sentendo male, Babyfaccia non si chiama Babyfaccia e quella è una faccia falsa, devo capire bene. Sinceramente io non ci credo, però mi so incuriosito, adesso voglio scoprire la vera faccia di Babyfaccia e il suo vero nome, la sua vera identità. Così lo svelo a tutti voi e so anche chi potrebbe riuscirci, Belpulcino. Qual era il numero? Sì, pronto, cosa vuoi Joe? Devo fare l'esame di riparazione. Belpulcino, ho scoperto qualcosa di assurdo. Babyfaccia non si chiama Babyfaccia, quindi ti affido il compito di scoprire la sua vera identità. Ciao! Ma ci picchi, arriverò tardissimo nella prova di riammissione. Io son Belpulcino e so il fratello cattivo di Babyfaccia. Son molto cattivo, ah! C'è qualcuno? Pronto? Salve professore, son Belpulcino. Allora, siediti e cominciamo subito. Se superi le domande e rispondi correttamente, verrai ammesso a scuola. Ma altrimenti andrai a pulire i bagni e la diarrea. Partiamo dalle domande semplici. Dimmi, quando fa 5x5? Ma perché mi deve dire a me queste domande super difficili? 5x5, fammi pensare, fa radice quadrata del pomodoro diviso il gorgonzola per la pozza delle ascelle di mio padre Bella Faccia. Sbagliato! Asino! La vera identità di Babyfaccia. Scusi signor diarreone, io non so leggere, mi potrebbe dire cosa c'è scritto in questo libro, grazie. Dunque, fammi vedere le verità di Babyfaccia. Babyfaccia in realtà non è un pollo, e non è il figlio di Bella Faccia. E Babyfaccia indossa una maschera, in realtà la sua vera faccia è un'altra. E qui c'è la foto della sua vera faccia. È molto buffo, è pelato. Cioè, vuole dire che mio fratello Babyfaccia non si chiama Babyfaccia e indosso la maschera? Io l'obbligo a dirmi la sua vera identità. Oh beh, per quello non posso aiutarti. Allora lo scoprirò da solo, so io a chi chiedere. Ah, ci voleva tanto questa diarrea. Pobberà, patto e jolly, io faccio la diarrea. Aiuto, andiamo a fare colazione. Allora, prendiamo questi, li mettiamo qui. Devo dire, il latte è proprio buono. Quando scadeva... Cosa? Tre mesi fa? Oh, mamma mia, non ci posso credere, ho mangiato il latte scaduto. Comunque, è arrivato il momento di svelare chi sono veramente. Ho aspettato troppo. Io non sono Babyfaccia. Questo è soltanto un soprannome per nascondere la mia vera identità. Questa che tu vedi non è la mia vera faccia. Ho aspettato veramente, veramente tanto. Non ce la faccio più. E i sensi di colpa. Ho mentito praticamente a tutti. Al professore a scuola, ai miei compagni, a Belconiglino, a Joe X E persino a mio padre Bellafaccia e alla mia mamma. Purtroppo ve lo devo anche dire, io non sono il vero figlio di Bellafaccia. La serie può terminare qua. Questo sarà l'episodio finale. Inutile che continuo a fingere. Mio padre Bellafaccia crede che sono il suo vero figlio. La mia identità non la conosce nessuno. E penso che oggi ve la mostrerò, vi dirò il mio vero nome. E vi mostrerò la mia faccia per la prima volta. Perché io non sono un pollo, anche se mi chiamano Babyfaccia. Io sono un umano. È il momento di abbandonare Minecraft perché tanto non voglio più starci. Scriverò una lettera di addio in cui dirò chi sono. Allora cosa posso usare per scrivere? La carta igienica. Beh sì, non ci abbiamo carta perché siamo poveri quindi usiamo la carta igienica. Addio Joe, addio papà bella faccia. Mi servo la pella, non c'è soldi per comprarla. Vabbè, non scrivo niente, via. Babyfaccia! Ma chi è che mi sta chiamando? Babyfaccia, sono il sergente Puzzetta. Ah, sergente Puzzetta, sì. Arrivo subito, eccomi qui sergente. Babyfaccia, ti devo dire che abbiamo fatto alcune indagini su di te. Abbiamo scoperto che tu non ti chiami. Babyfaccia, hai un altro nome. Tu ci stai nascondendo qualcosa. Quindi o ci dici chi sei, altrimenti ti aspetteremo in prigione. Adesso! Non ho il coraggio, io non posso svelare chi sono. La mia identità deve rimanere segreta, altrimenti tutti quelli che ci stanno guardando, mio padre, Joe, del pulcino, del coniglino, mia mamma, beh, avrebbero un infarto. Babyfaccia, io qui rappresento le forze dell'ordine. Dimmi chi sei o ti arresto. Hai tre secondi di tempo. Uno, due, tre, arrestatelo! No, via, 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 via! Io bemmo la pizza, Margherita, io scappo, io scappo! Vieni qui, Babyfaccia, fermo o sparo! No, no, via! Aiuto, via, 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 via... Devo stare sott'acqua così non mi prenderanno, non resisterò a lungo. Penso di averli seminati, ma non posso muovermi da qui. Sono vicino, l'ho sentito parlare Tu vai a destra, io vado a sinistra Oh no, sono più qui Ragazzi, non mi resta molto da vivere Quindi purtroppo vi devo dire tutta la verità Io non sono baby faccia Ho sempre fatto credere di essere baby faccia E io non so il figlio di Bella Faccia In realtà Bella Faccia mi ha adottato La mia vera famiglia è un'altra E vive in Alabama, negli Stati Uniti d'America Sono nato in Alabama E poi sono venuto su Minecraft Grazie a Bella Faccia che mi ha adottato Ed ecco, mi levo questo costume E dimostro come so fatto realmente 3, 2, 1 Tu lascia subito mi piace al video Sprigati, lascia like Ed eccomi qui ragazzi, questa è la mia vera faccia La mia vera voce, io mi chiamo Alessandro E come vi dicevo, vengo dall'Alabama Ho dovuto intossare il costume di baby faccia E chiamarmi baby faccia Per delle situazioni veramente molto complicate Ma questo so io in realtà Piacere, mi chiamo Alessandro E tu come ti chiami? Scrivimelo commentando qui sotto Per me questo è un momento molto difficile Perché io amo Bella Faccia Lo considero veramente come mio padre E voglio molto bene A GioX97 Lui per me è il mio miglior amico Cercate di capirmi Ma purtroppo ormai vi ho svelato la mia vera identità E quindi devo lasciare questo mondo di Minecraft Che dite? Vi aspettavate che fossi così? Che avessi questo aspetto? Commentate scrivendo Sì me lo aspettavo Oppure no Non me lo aspettavo proprio Ed adesso amici miei Statemi bene Alessandro vi dovrà lasciare Io ho deciso che andrò via da Minecraft per sempre Lascerò la serie con Gio E mio padre Bella Faccia Mi dispiace ma ho deciso così ragazzi Sinceramente mi sono stufato di essere baby faccia Io vi dovevo svelare chi ero veramente Non ce la faceva a tenermi tutto questo peso dentro Era veramente difficilissimo per me Finalmente mi sono liberato Quindi ragazzi miei Lascerò per sempre Minecraft E vi saluto per l'ultima volta E sappiate che ti amerò per sempre Mi raccomando Iscriviti al canale del mio amico Gio E lascia mi piace a questo video Se magari vorrai che ritorno in un prossimo video Addio Vado via da Minecraft E' stato bello Ciao a tutti Ormai l'ho perso di vista Guardate ragazzi E' andato via Alessandro Mi mancherai veramente tanto Voi ragazzi l'avete scoperto adesso Io intanto mi mangio questo uovo sodo Che buono Sa di bella faccia Comunque ragazzi adesso sono rimasto solo in questa vanilla E sapete qual è la parte più brutta Andarlo a dire adesso a bella faccia A suo figlio Cioè a suo padre Mi manca baby faccia Già mi manca baby faccia Dove sei Ti prego ritorna O dovrei dire Alessandro Ritorna Ti prego Alessandro Voglio te Ritorna 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 Grazie a tutti.